Sì, buonasera. Intanto cominciamo col dire che l'incontro su iniziativa della FIOMCGL è stato presidiato dai lavoratori irpini di Prato-la-Serra e delle altre aziende del settore automotive della provincia di Avellino, Denso, Lima Sud, Industria Italiana Autobus, CMS, Acelor e Omi. C'era naturalmente attesa per tutti i lavoratori dei siti italiani di Stellantis, a partire da quelli campani di Prato-la-Serra e Pomigliano, ma anche naturalmente di Mirafiori, Termoli, Cassino e Melfi. Partiamo da quelle che sembrerebbero delle conferme emerse dall'incontro di Roma, quella intanto del Ministro Urso che in continuità con il Governo Draghi ha ribadito gli incentivi per il settore 6 miliardi tra il 2025 e il 2030, che si aggiungono ai 2 miliardi e 6 già erogati per i contratti di sviluppo in 5 dei 6 stabilimenti italiani. La multinazionale, rappresentata al massimo livello da Davide Mele, direttore esecutivo per l'Europa di Stellantis, ha confermato che il piano per l'Italia sta andando avanti, ma ha anche sottolineato le criticità che emergono dal mercato sulla grande partita dell'elettrico, i costi delle auto elettriche sono più alti rispetto alla trazione endotermica, siamo in grado, ha detto, di essere leader nell'automotive sostenibile a condizione però di rendere accessibile l'offerta elettrica, riducendo i costi delle nuove tecnologie e recuperando i problemi che hanno caratterizzato gli ultimi due anni a causa della pandemia, dall'aumento del prezzo delle materie prime alla mancanza dei semiconduttori. Diamo il benvenuto a Giuseppe Morsa, segretario della FIOM CGL che era a Roma e ha partecipato all'incontro. Buonasera segretario. Buonasera a lei e buonasera ai telespettatori. Che impressioni ricava per Prato la Serra dall'incontro di oggi a Roma? Su Prato la Serra non ci sono cose pubblicate rispetto a questo processo, ovvero c'è il piano industriale che prevede la produzione del motore 2.2 diesel per tutti i veicoli commerciali del gruppo Stellantis. Questa è stata una conferma oggi avvenuta dall'ingegnere Mere alla presenza del ministro Urso. Io sottolineerei un altro aspetto che lei nelle introduzioni ha opportunamente evidenziato, ovvero il fatto che ci sono degli incentivi che lo Stato sta offrendo a Stellantis, Dopodiché il ministro Urso ha posto delle questioni all'azienda e sono le seguenti. Le risposte rispetto a come sono stati utilizzati questi incentivi e il fatto che tanti soldi dati a Stellantis non si sono declinati in occupazione e produzione. Questo è un dato significativo che aprono sparti acqua rispetto ai metodi passati di interlocuzione istituzionale e sindatale.